bella a tutti ragazzi stiamo sempre qui sul canale di se darcino mancraft e siamo qui in compagnia di alex4500 ciao oggi andremo a costruire un portale per il nether esatto stiamo allargando la stanza dove metterlo dopo la riempiremo con la nether io direi di farlo qua anche l'algetto ms dovrebbe essere tipo ma che dottie ragazzezza così se non dico cavolate così e così dovrebbe essere così ma qua se vuoi ancora spaccare non ti sa mai non ti sa mai caro ragazzo noi abbiamo buchi sotto casa ma vabbè ah eccoci che li fai ai buchi poi c'è quel gioco titta passa l'ossidiano arrivo un attimo bom 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 ciao tieni ciao ora il bar istatz dal ora devo perdonare l'ultimo blocco e poi andremo nel nade appartato in assi il carico ma te io manderò la porta perché non fai non si sa mai come caratteristico il titolo boi o un set di partola 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 8 10 9 9 10 10 10 10 10 10 ma hai visto una cortezza così schifosa ah qua si sale ah glostone in questo episodio dirai alla conquista della cortezza non picchiare no lo so se ne picchi da poi ci vengono tutti a rorgiare non è una cosa molto bella tanto lapislaffri non nuttarli ma anche lo mi sembra sempre di occhio mario scappa andiamo aia no bene hai cibo eh 20 mele e passano ah no ha niente neanche io 17 quindi ha posto così ha posto così ha posto le mele torce anche col neve voglio le ho le torce bussia come l'inferno dove sei? qui raccoglio un po' di lava ok ehm ti do ah potremmo farci un secchio no dell'acqua col secchio prendiamo la lava e con la lava possiamo facciare circa mille blocchi con la fornace ah si risparmi carbone boh il carbone non credo che ci manchi boh però lo so ma non si sa mai tu ma ti sacchi e non devi continuare a ricaricare il carbone ah si ne prendiamo un po' di secchi tanto di ferro ne abbiamo quindi andiamo a fare secchi vai e vedi che ci becchiamo quando abbiamo finito di fare secchi ehm se finisco un attimo qua di prendere oh oh ci rivediamo fra un secondo rieccoci qua abbiamo abbiamo preso abbiamo craftato degli archi e un po' di frecce ti ricordo di non bombardare i nemici andiamo a prendere un po' di lava ci abbiamo fatto un po' di tre secchi a testa e io direi di non andare lì perchè? perchè è chiuso è il destino che va bene ma io ho paura di questi tizzi magari sono dei tizzi del qaeda voi siete del qaeda scusate ecco ho preso fuoco oh tu chi stia ti capite di non fare questi rumori quando registro dai passiamo di qua favore mi scusi mi scusi mi guardi ok spero che questa parte qua porti a qualcosa no no niente torni dietro io ho un secchio di lava ce l'ho quindi e io no eh ma la troveremo anche per te tranquillo signore signore ma infeldi dite a lei come guariremi si possono avere eh si possono avere come guariremi mi sa che ho trovato la lava? io ho messo che ti persano niente qui bene bene salito bene 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 questo con il punto tutto no ho preso ancora fuoco ma dai ma tu prendi fuoco ogni 5x6 ma che lo so oh ma c'è ancora fuoco di ritardato che sta a fuoco io me ne vado intanto sto raccogliendo un po' di funghi ahia hai tirato una testata mi sono toccato la bua oh quanto mi dispiace io mi sono perso ah si si bene bene caro mantra mmm dove era l'uscita? titta vuoi venire un attimo eh beh sì sì dove era l'uscita onorevole perchè tipo ha trovato un altro pezzo di fortezza ah io ti sento io quei pezzi ehm ecco mi sono perso bene bene cari donne ah ho trovato lo spawner di quelli antipatici felicità è ammazzare guadiglia di affetti ragazzi ragazzi aiuto 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 qua ci credo qua ci credo alex ci crepa attenzione su no forse no oh oh e ci crepa seriamente aperta ragazzi questa è una guida istituita mezzo cuore di vita che mi ha fatto tradire un uomo vedetevi conto vedetevi conto vedetevi conto finalmente trova il portale e dici che se ne va che me ne va guarda e io continuo un attimo qua manco molto c'è è questo vuoi essere un po' in giro fuori dalla fortezza tu cosa che stai facendo intanto penso che vado in giro a cercare qualcosa ok guarda un attimo quanti minuti siamo 9 minuti e 28 io direi di tornare a casa e finire quale episodio si ah un mini zombie che carino one shot up pure mother ma se nel prossimo episodio creiamo uno spawn di zombie così per farci un po' di esperienza si no forse non potrebbe fare anche quella di carne che volevamo fare una cosa di carne che abbiamo avuto per procurarsi cibo va bene boh penso che decideremo nel prossimo se avete delle idee di questo direi che è tutto boh spero finisco di combattere contro il gas ci vediamo alla casa l'arrivo anch'io dove? a casa sopra e arrivo io sono ancora nel nader eh sono tutto uccido il gas credo però che non ha dato la blaze rod lì eh sì c'ho la lacrima di gas questo vado a controllare ha dato una gunpowder sto grande figlio di una mignotta vedi via che portale stai arriva siamo sono al portale ma arrivo a casa sento uno zombie eccoci qua stavi ammirando il paesaggio sì direi che con questa magnifica vista che si vede da casa nostra possiamo chiudere l'episodio qui da vediamo fino a Minecraft è tutto arrivederci ciao ciao